Gianna, poche tesi e troppe illusioni, vince in due set Jeremy Cardi, numero 86 ATP, su Alessandro Giannessi, numero 181 del mondo e uno dei due italiani in tabellone assieme a Paolo Lorenzi, TDSN4. Partita divertente ed equilibrata nel primo set, tra due giocatori che non si erano mai incontrati in carriera. Giannessi subisce un Breac a inizio partita, nel secondo game. Troppo timido l'Azzurro che regala con la prima palla. Bravo però Alessandro a tenersi in partita, e ad alzare il ritmo dei colpi, e a procurarsi due palle Breac nel quinto game. Che Cardi rispedisce al mittente giocando bene la prima palla di servizio. Si va quindi al settimo game e Cardi va nuovamente sotto 15-40, lasciando tre palle Breac a Giannessi che stavolta le sfrutta. Si va a dritti poi al tie Breac, con Giannessi che tiene bene il ritmo del più quotato avversario e soprattutto sbaglia pochissimo. Dopo uno scambio di mini Breac Giannessi ha sul servizio il primo set point, che purtroppo fallisce sparacchiando male da fondo. Poi è Cardi a servire bene, e a procurarsi un set point, prontamente convertito sul servizio dell'Azzurro, che inizia a mostrare qualche segno di appannamento.